Risultati importanti, quelli conseguiti nel 2021 dall'USRL, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Territori Colpiti dai Terremoti del Centro Italia, diretto da Vincenzo Rivera. In conferenza stampa il Presidente della Regione Marco Marsiglio e il Direttore Rivera hanno fatto il consuntivo delle cose fatti. I dati emersi sono positivi perché l'Abruzzo non è più una cenerentola per il sisma 16-17 per percentuale di pratiche istruite, decretate e di contributi spesi, superata la Regione Lazio e ci si avvicina alle prestazioni della Regione Umbria. Marsiglio ha spiegato che rispetto a tre anni fa, quando è iniziato il suo mandato, la ricostruzione era praticamente ferma, le pratiche sono aumentate, quintuplicate. L'Abruzzo è la Regione che ha corso di più, dopo che anche il commissario Legnini ha sciolto dei nodi importanti, la sua azione è stata lodata da Marsiglio. La ricostruzione pubblica soffre di più, anche a causa del peso della burocrazia, ma anche su questo nei prossimi mesi si apriranno cantiere e si faranno demolizioni, vedi le case popolari di Teramo. Rivera ha scattato una fotografia dei numeri, la capacità di decretazione è molto aumentata, lo stato dell'arte ad oggi vede 1.469 decreti di concessione autorizzati, cioè cantieri e vaso, il 58,3% delle pratiche presentate. L'ufficio riesce a decretare di più oggi rispetto a ciò che riceve. Le semplificazioni hanno inciso molto, ma soprattutto è stata importante la dotazione di organico. L'occasione è stata utile anche per presentare la piattaforma Abruzzo WebGIS, che consentirà di geolocalizzare gli edifici e avere tutte le informazioni utili sulle proprie pratiche, un modo per rendere più agevole il dialogo con i cittadini. Abbandoniamo l'ultima posizione dell'Apennino Centrale, non siamo più il fan di Nicoda, abbiamo superato il Lazio per numero di concessioni complessivamente approvate. Abbiamo chiuso l'anno con un più 256% rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 1.400 cantieri autorizzati e per un importo di circa 260 milioni di euro. Quindi è un risultato straordinario che ci consente di rivendicare i grossi sforzi fatti. Abbiamo fatto cinque volte tanto quello che si faceva al ritmo precedente e abbiamo recuperato il terreno perduto anche in confronto alle altre regioni, perché se una progressione in crescita può essere giustificata dal fatto che ci vuole un po' di tempo a mettere una macchina amministrativa a lavorare e a produrre, il confronto con le altre regioni dimostra che abbiamo prodotto di più e che abbiamo corso di più e recuperato il terreno perduto. Quindi per la ricostruzione in Abruzzo, soprattutto per quella che gestiamo direttamente, che riguarda il sisma 2016-17, c'è una forte crescita, una forte accelerazione.